Messaggio, urbi e torbi, di Papa Francesco, Pasqua 2023, 9 aprile 2023 Cristo è il risorto. Oggi proclamiamo che Lui, il Signore della nostra vita, è la risurrezione e la vita del mondo. E Pasqua, che significa passaggio, perché in Gesù si è compiuto il passaggio decisivo dell'umanità, quello dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla paura alla fiducia, dalla desolazione alla comunione. In Lui, Signore del tempo e della storia, vorrei dire a tutti, con la gioia nel cuore, Buona Pasqua! Sia per ciascuno di voi, cari fratelli e sorelle, in particolare per gli ammalati e per i poveri, per gli anziani e per chi sta attraversando momenti di prova e di fatica, un passaggio dalla tribolazione alla consolazione. Non siamo soli, Gesù, il vivente, è con noi per sempre. Gioiscano la Chiesa e il mondo, perché, oggi, le nostre speranze non si infrangono più contro il muro della morte, ma il Signore ci ha aperto un ponte verso la vita. Sì, fratelli e sorelle, a Pasqua la sorte del mondo è cambiata, e quest'oggi, che coincide pure con la data più probabile della risurrezione di Cristo, possiamo rallegrarci di celebrare, per pura grazia, il giorno più importante e bello della storia. Siù era stato sepolto. E poi, la sera di Pasqua, incontrato il risorto sulla via di Emmaus, due discepoli partirono senza indugio, e si affrettarono a percorrere diversi chilometri in salite al buio, mossi dalla gioia incontenibile della Pasqua che ardeva nei loro cuori. Quella stessa gioia per cui Pietro, sulle rive del lago di Galilea, alla vista di Gesù risorto, non poté trattenersi sulla barca con gli altri, ma si buttò subito in acqua per nuotare velocemente incontro a lui. A Pasqua, insomma, il cammino accelera e diventa corsa, perché l'umanità vede la meta del suo percorso, il senso del suo destino, Gesù Cristo, ed è chiamata ad affrettarsi incontro a lui, speranza del mondo. Affrettiamoci anche noi a crescere in un cammino di fiducia reciproca, fiducia tra le persone, tra i popoli e le nazioni. Lasciamoci sorprendere dal lieto annuncio della Pasqua, dalla luce che illumina le tenebre e le oscurità, in cui troppe volte il mondo si trova avvolto. Affrettiamoci a superare i conflitti e le divisioni, e ad aprire i nostri cuori a chi ha più bisogno. Affrettiamoci a percorrere sentieri di pace e di fraternità. Gioiamo per i segni concreti di speranza che ci giungono da tanti paesi, a partire da quelli che offrono assistenza e accoglienza a quanti fuggono dalla guerra e dalla povertà. Lungo il cammino ci sono, però, ancora tante epite di inciampo, che rendono arduo e affannoso il nostro affrettarci verso il risorto. A lui rivolgiamo la nostra supplica. Aiutaci a correre incontro a te, aiutaci ad aprire i nostri cuori. Aiuta l'amato popolo ucraino nel cammino verso la pace, ed effondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra, e fa che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie. Apri i cuori dell'intera comunità internazionale, perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo. A partire dalla Siria, che attende ancora la pace, sostieni quanti sono stati colpiti dal violento terremoto in Turchia e nella stessa Siria. Preghiamo per quanti hanno perso familiari e amici, e sono rimasti senza casa. Possano ricevere conforto da Dio e aiuto dalla famiglia delle nazioni. In questo giorno ti affidiamo, Signore, la città di Gerusalemme, prima testimone della tua risurrezione. Manifesto viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l'auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra israeliane e palestinesi, così che la pace regni nella città santa e in tutta la regione. Aiuta, Signore, il Libano, ancora in cerca di stabilità e unità, perché superi le divisioni e tutti i cittadini lavorino insieme per il bene comune del paese. Non ti dimenticare del caro popolo della Tunisia, in particolare dei giovani e di coloro che soffrono a causa dei problemi sociali ed economici, affinché non perdano la speranza e collaborino a costruire un futuro di pace e di fraternità. Volgi il tuo sguardo ad Haiti, che sta soffrendo da diversi anni una grave crisi sociopolitica e umanitaria, e sostieni l'impegno degli attori politici e della comunità internazionale nel ricercare una soluzione definitiva ai tanti problemi che affliggono quella popolazione tanto tribolata. Consolida i processi di pace e riconciliazione intrapresi in Etiopia e in Sud Sudan e fa che cessino le violenze nella Repubblica Democratica del Congo. Sostieni, signore, le comunità cristiane che oggi celebrano la Pasqua in circostanze particolari, come in Nicaragua e in Eritrea, e ricordati di tutti coloro a cui è impedito di professare liberamente e pubblicamente la propria fede. Dona conforto alle vittime del terrorismo internazionale, specialmente in Burkina Faso, Mali, Mozambico e Nigeria. Aiuta il Myanmar a percorrere vie di pace, e illumina i cuori dei responsabili perché i martoriati Rohingya trovino giustizia. Conforta i rifugiati, i deportati, i prigionieri politici e i migranti, specialmente i più vulnerabili, nonché tutti coloro che soffrono la fame, la povertà e i nefasti effetti del narcotraffico, della tratta di persone e di ogni forma di scavitù. Ispira, signore, i responsabili delle nazioni, perché nessun uomo o donna sia discriminato e calpestato nella sua dignità, perché nel più rispetto dei diritti umani e della democrazia si risanino queste piaghe sociali. Si cerchi sempre e solo il bene comune dei cittadini. Si garantisca la sicurezza e le condizioni necessarie per il dialogo e la convivenza pacifica. Fratelli, sorelle, ritroviamo, anche noi, il gusto del cammino, acceleriamo il battito della speranza, pregustiamo la bellezza del cielo. Attingiamo, oggi, le energie per andare avanti nel bene incontro al bene che non delude. E, se, come scrisse un padre antico, il più grande peccato è non credere nelle energie della risurrezione, oggi crediamo, sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Crediamo in te, Signore Gesù, crediamo che, con te, la speranza rinasce, il cammino prosegue. Tu, Signore della vita, incoraggia i nostri cammini e ripeti anche a noi, come ai discepoli la sera di Pasqua. Pace a voi!